Falconara, Ancona, Senigallia, Pesaro. Sono quattro le città marchigiane che compaiono tra le prime cento in Italia nel rapporto dell'Inail per l'incidenza tumorale di mesotelioma. Dati che fanno riferimento a diagnosi emerse tra il 1993 e il 2012, inserite nel sesto rapporto, quello del 2018, dell'Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro. Dal rapporto, complessivamente nei casi trattati in tutta Italia, emerge come nel quasi 70% dei casi della malattia si prospetta un'esposizione professionale per l'80% legata all'amianto nell'edilizia, nell'industria pesante, in particolare nella meccanica, la metallurgia, i prodotti in metallo e i cantieri navali. Le diagnosi di mesotelioma, malattia peraltro con una latenza piuttosto lunga che nella maggior parte dei casi compare dopo i 60 anni, nella triste classifica del rapporto Inail, si pone Falconara al 35esimo posto, Ancona al 40esimo, Senigallia al 60esimo e Pesaro all'86esimo, tra le prime cento città italiane. Il campanello di allarme per la dorsale adriatica marchigiana è suonato anche per CGL Cislewilla, impegnati nella campagna L'Italia libera dall'amianto entro il 2018. I segretari regionali giovedì pomeriggio hanno incontrato il vicevicario prefetto di Ancona, di Nuzzo, esprimendo preoccupazione e lanciando, tra le altre proposte, la necessità del riconoscimento delle vittime da malattie professionali e non, la possibilità di prorogare al 2019 le richieste di riconoscimento. Per il prossimo 12 dicembre è in programma anche un incontro tra i sindacati e l'assessore regionale Angelo Sciapichetti per una verifica delle aree da bonificare e con l'Asur per monitorare i casi di patologie collegate all'amianto.